Musica 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 Amici di Sottoscacco ben trovati, in queste settimane si sono susseguiti qui accanto a me nella nostra scacchiera diversi politici esponenti della politica comunale, regionale. Quest'oggi vogliamo dare spazio ai cittadini, a chi magari non avrà voce nei grandi palazzi della politica ma che si fa sentire per strada, per il proprio presente, per il proprio futuro e soprattutto per le proprie famiglie. Allora è un piacere avere con noi Adriana Vitale. Buongiorno. Buongiorno. Bentrovata, grazie intanto per essere qui con noi, hai fatto un viaggio molto lungo, però lei è abituata insomma a lottare e a viaggiare e anche a fare dei sacrifici. Per chi non conoscesse Adriana Vitale, su Facebook è diventata nella lotta inerente alla formazione professionale, in particolare all'ambito degli ex sportellisti, una vera e propria passionaria. Non so se è giusto definirla così, se le piace insomma. Diciamo che il termine mi è stato detto da molte persone, cioè questo è in dubbio, però voglio dire io mi sento una persona normale come tanti altri, che semplicemente ha voluto mettere a disposizione se stessa per difendere la dignità del proprio lavoro e contestualmente quella di tanti altri colleghi che si trovano esattamente nella stessa mia identica situazione. Quindi la battaglia è nata proprio da un moto d'orgoglio e di dignità proprio nella difesa di questo lavoro. La media diciamo tra i colleghi è quella dei cinquantenni, quindi con un passato lavorativo di trent'anni di servizio, molti dei quali passati proprio nei centri per l'impiego. Per cui dall'oggi al domani vederti sottrarre il lavoro e quindi la tua stabilità familiare, un lavoro su cui tu hai puntato, su cui hai fatto un investimento, hai diciamo fatto crescere la tua famiglia, i tuoi figli e quindi dall'oggi al domani vederti sottrarre il lavoro e con esso la dignità che porta dietro, ovviamente può far scatenare quello che ha scatenato in me, cioè la voglia di reagire, di lottare e di non essere succubi di una politica incapace, inetta e inconcludente. Quello della formazione è evidentemente in Sicilia una delle criticità degli ultimi anni. Si sono seguiti nei vari governi, poi faremo anche chiarezza proprio sui cenni storici di questa lotta che lei in persona, che viene comunque seguita da molte, ha dato voce a tante persone tramite Facebook che è ormai diventato... Non solo io comunque, ma un gruppo di lavoratori che siamo stati tutti insieme. Io chiedo anche a lei, così come faccio con tutti i nostri ospiti, se ha dimestichezza col gioco degli scacchi. Diciamo un pochettino, non più di tanto. Però anche la vostra a questo punto è a volte anche una partita a scacchi. Il problema è che non si gioca con le pedine, ma le pedine siete voi. E' anche brutto forse dirlo, però a volte vi sentite trattate come pedine? Assolutamente sì, è ovvio, perché la battaglia che noi abbiamo fatto ha avuto tanti interlocutori, abbiamo avuto tante promesse. Io le ricordo, e sicuramente lo sai meglio di me, che il governo regionale ha avuto 47 assessori, per cui ogni volta, anche nel nostro ambito, si è cambiato assessore molto spesso, per cui ogni volta ricominciare da capo. Ognuno di loro portava, diciamo, i suoi interessi, non voglio dire che è una cosa brutta, assolutamente, interessi politici, per cui ogni volta ricominciare da capo, con assessori diversi. Ed è in dubbio che quando tu riesci poi ad avere un'interlocuzione con, diciamo, la parte istituzionale, dall'oggi al domani, devi ricominciare da capo. E quindi ogni volta era veramente penoso. Lei crede nei cosiddetti governi tecnici? Cioè governi composti da persone che hanno a che fare, magari con determinati ambiti, e che quindi possono portare meglio nelle aule? Io questo lo dico da cittadina, che ha un libero pensiero personale sulla politica. La politica fa le scelte. Il tecnico è statico, per cui preferisco la politica. Anche perché a volte la politica è l'arte dell'impossibile. Il tecnico invece mette nero su bianco, e non ha quindi l'elasticità mentale di operare delle scelte che vanno a beneficio di tutti. Però devo dire che l'ultimo assessore al lavoro, la dottoressa Mangano, che è un tecnico, almeno lei si presenta come tale, ha fatto delle scelte politiche importanti, che noi apprezziamo assolutamente. Il fatto, per esempio, di essere rimasta assolutamente sì, perché sarebbe stato per noi un'altra forma di abbandono. E dico questo perché la dottoressa Mangano, chi che se ne dica, è una grande lavoratrice, si sta impegnando molto per risolvere alcune problematiche. magari noi possiamo essere un po' in contrasto su quello che noi vorremmo, e magari lei ha un'altra linea, su piccolezze, su sfumature. Però c'è confronto, c'è interesse. Sì, c'è molto confronto, la dottoressa è sempre stata con noi molto aperta. Per cui, voglio dire, è un tecnico, ma è un tecnico che ha agito in un certo senso da politico, perché ha fatto una scelta molto, molto, molto importante. E quindi diciamo che ci sono tecnici e tecnici, ci sono politici e politici, però da cittadina io preferisco sempre il politico, perché è il politico che opera le scelte, sicuramente non il tecnico. Parliamo un po', anzi più di un po', della lotta che lei, così come gli altri suoi colleghi state portando avanti ormai da anni, un po' di numeri, in Sicilia sono 8 mila, i lavoratori della formazione in generale, che in questo momento versano in condizioni sicuramente precarie, occupazionali. 1.500 gli ex sportellisti, tutti, però male senza lavoro, la vostra protesta inizia nel 2013, perché mi diceva appunto prima di andare in diretta che comunque dal 2013 ad oggi avete messo insieme appena 9 mesi di lavoro retribuito. Sì, praticamente noi eravamo, eravamo, diciamo, dentro gli enti di formazione professionale e dentro il bilancio regionale. Questo è un passaggio importante che io voglio rimarcare. Fino ai tempi di Lombardo eravamo dentro il bilancio regionale. ad un certo punto hanno deciso, quindi scelte politiche, durante il governo Lombardo di farci uscire fuori dal bilancio regionale e usare le risorse del Fondo Sociale Europeo. Quindi abbiamo iniziato a lavorare nel 2010 con le risorse del Fondo Sociale Europeo. Una situazione impossibile da gestire perché i pagamenti sono in ritardo, non è una situazione che può adattarsi a un impiegato, assolutamente, perché il Fondo Sociale Europeo ha molte regole, è molto farraginoso. Quindi siamo usciti fuori dal bilancio regionale, siamo entrati nel Fondo Sociale Europeo con un progetto triennale. Doveva essere 3 più 3, ma gli altri 3 non li abbiamo visti. Quindi a settembre del 2013 è scaduta la progettazione di questi due avvisi, avviso 1 e 2, e quindi siamo rimasti così, gli enti erano senza commesse. Al che sono iniziato una serie di scioperi, dopodiché l'amministrazione regionale ha inteso farci transitare al Ciape di Priolo. Che ha fatto alla fine che ha fatto? No, non quello di Palermo, quello di Priolo. Quello di Priolo funziona benissimo, è una chicca, diciamo. Quello di Palermo è stato investito da azioni giudiziarie, che non stiamo qui a discutere, assolutamente. Quindi siamo transitati al Ciape di Priolo con un progetto, allora il progetto Spartacus, e l'intentimento dell'amministrazione regionale era quello di fare la proroga, e quindi questo bacino essere collocato al Ciape di Priolo per svolgere le mansioni, tutte le nostre mansioni, un bacino dentro un ente, di politica attiva del lavoro, quindi si agiva dentro i centri per l'impiego, e quindi continuavamo a fare il lavoro che avevamo fatto per molti anni. Poi la politica ha deciso che la cosa doveva finire lì, e quindi, in buona sostanza, siamo stati alla fine del contratto a tempo determinato, non è stato rinnovato nulla, per cui siamo rimasti senza lavoro. Poi è iniziata la fase di garanzia giovani, e quindi siamo dopo tante battaglie. Nel frattempo abbiamo fatto il primo sit-in importante, il 14 luglio 2014, proprio la vigilia del festino, cioè gli uffici erano chiusi e eravamo in cinque persone, e mi piacerebbe anche fare il nome di queste cinque persone. Ero io, il mio collega Rosario Lamonica, l'altro mio collega Giovanni Di Vrusa, che attualmente è andato via perché deve pur campare la famiglia, Michele Orlando, e Albanese, il mio collega Maurizio Albanese. Abbiamo iniziato, si sono accodati tutti gli altri, diciamo che nel bene e nel male siamo riusciti a ottenere un altro contratto al Ciappi, tutti insieme, con gli altri colleghi che sono venuti a fare la battaglia con noi. Poi però? Tre mesi, basta, a casa. Quando è stato l'ultimo giorno in cui lei ha lavorato? Allora, l'ultimo giorno, non solo io, ma per tutti, è stato l'8 aprile del 2015. siamo al 2017 abbondanti, quindi da anni abbondanti, si è messo in mezzo un avviso, un avviso 6, che a quanto mi risulta è partito da poco, quindi presumo che qualche collega sta lavorando, ma saranno proprio veramente pochissimi. Che è sempre un avviso, che è sempre Fondo Sociale Europeo, che è sempre farraginoso, quindi noi abbiamo fatto poi la battaglia, l'abbiamo iniziata, quella diciamo più lunga, più faticosa, più drammatica per noi e per le nostre famiglie. Quando l'8 febbraio del 2016 ci siamo siamo andati in Pietrinacre davanti all'assessorato e abbiamo iniziato uno sciopero della fame lungo, abbiamo dormito per strada, al freddo, la notte pioveva, i sacrifici sono stati tanti, perché diciamo riposarsi un po' in macchina lascia immaginare, senza servizi, per cui anche i bisogni fisiologici erano un problema. C'è stato mai un momento nel quale lei ha detto basta, non ce la faccio più neanche a protestare? Diciamo che in quel periodo no, perché la voglia di conquistare qualcosa era troppa. Ci sono stati dei momenti che ho ceduto, ma più che altro quando magari avvengono dei contrasti anche tra colleghi, perché il nervosismo e quindi la mancanza a volte anche di fiducia momentanea, lo scoraggiamento ti induce anche ad avere diciamo dei piccoli problemi. In quanti eravate in questa protesta e nelle varie anche altre sciopri della fame? Allora io in tutti i casi eravamo in pochi, diciamo fissi potevamo essere una cinquantina e a giro un 200 persone e da questo punto di vista devo rimarcare che molti colleghi delle province che si sacrificavano e venivano da lontano, parlo di colleghi di Trapani, di Siracusa, di Messina, di Catania, di Agrigento, di Enna, Caltanissetta, un po' tutte le province di Trapani, un po' tutte le province siciliane. A giro diciamo potevamo anche raggiungere una quota di 200 persone coinvolte e nelle manifestazioni magari un po' più grosse avevamo cifre superiori. Però la verità è che in pochi ma non esiste proprio. Questa battaglia l'abbiamo portata avanti veramente un pugno di lavoratori proprio fissi qua tenuto conto che neppure io sono di Palermo quindi facevo i viaggi della speranza in quella strada disgraziata che c'è la Palermo Agrigento molto pericolosa e tra l'altro ora come lei ben sa è un cantiere aperto per cui diciamo è molto molto faticoso e quindi abbiamo ritornando al discorso di quella grande battaglia noi chiedevamo una norma per garantirci l'abbiamo ottenuta non era proprio quella che volevamo ma quella norma affidava tutto all'amministrazione regionale e quindi agli atti dell'assessore la cosa si è renato per più di un anno nessun passo avanti è stato fatto quantomeno io non lo so internamente cosa hanno fatto però di fatto noi ancora al lavoro non ci siamo quando il governatore Crocetta ha definito la vostra una formazione deviata vi siete sentiti in qualche modo colpiti personalmente il governo Crocetta arriva con lo sbandieramento della rivoluzione perché questa è un'altra delle accuse che vengono mosse alla formazione al grande bacino della formazione professionale il governo Lombardo aveva usato la formazione professionale un po' come un bacino elettorale anche qualcuno di prima noi eravamo un 3000 poi la cosa è scoppiata quindi veramente i più anziani temevamo che potesse scoppiare e implodere su se stessa come è avvenuto facilitata anche dalle scelte del presidente lui ha parlato di formazione deviata non è un termine scorretto quello che ha usato il presidente è scorretto nella misura in cui colpiti siamo stati i lavoratori perché la formazione deviata è vero che c'era c'era è come se c'era io cioè dico lui probabilmente si riferiva a quel sistema politico sindacale ma di fatto i colpiti siamo stati i lavoratori per cui è intubbio che ci siamo offesi essendo stati giudicati formazione deviata perché noi avevamo solo e l'unica colpa che avevamo era quella di avere un lavoro di andare a lavorare con dignità con onestà e dall'oggi al domani ci siamo ritrovati tutti in mente alla strada e quindi ci ha offeso profondamente da questo punto di vista perché lui avrebbe dovuto prima di scardinare tutto un sistema che intubbiamente andava scardinato perché andava scardinato da questo punto di vista non diciamo sono almeno io personalmente d'accordo col pensiero del presidente ma prima di scardinare il sistema doveva mettere al sicuro i lavoratori creando un contenitore avendo una progettualità mentale nel senso di avere un progetto mentale per esempio creare veramente un albo ad esaurimento ma non un albo nominativo in ordine alfabetico che non ha senso un albo nel quale venivano rispettate alcuni paletti qual è l'anzianità di servizio le competenze dopodiché lo regionalizzava o creava un apparato ad occhi toglieva veramente la manciuglia e salvaguardava per bene i lavoratori questo non è stato fatto probabilmente era nella sua testa però i poteri forti non gliel'hanno consentito ma questo non lo giustifica perché se i poteri forti non te lo consentono vuol dire che tu sei un debole e stiamo parlando comunque del presidente della regione più potere forte di questo guardi io nutro molta simpatia ed è anche reciproca non mi permetterei mai di offendere da un punto di vista personale però politicamente è sotto gli occhi di tutti cioè veramente ora parlare male di lui è come sparare alla croce rossa cioè non ha neppure senso aspettiamo questi quattro mesi con pazienza e poi si ricomincia e però frasando anche un suo post che ha avuto molto successo è stato anche ripreso da molti organi di informazione in quel caso in quello che diceva è stato buttato via l'acqua sporca e il bambino insieme assolutamente sì ha fatto cenno poc'anzi forse fuggita non si è neanche accorta ha i sindacati sì i sindacati se ne ho accorti i sindacati sono ancora il più grande mezzo il più grande conquista lavorativa come avvenne 40 anni 50 anni fa secondo me dalla sua affermazione quelli che veramente si sono abbattuti i nostri padri per avere un sindacato giusto a difesa completamente dei lavoratori si stanno rivoltando nella tomba perché ormai a mio giudizio i sindacati sono io li chiamo se posso usare tra virgolette un termine siciliano putie 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 nel senso di negozi e dentro cosa c'è dentro queste putie? c'è di tutto e di più c'è di tutto e di più anche perché per esempio noi sapevamo che loro avevano interesse nella creazione delle APL perché hanno interesse nei padronati e così via ma non è neppure questo è il punto il punto è che noi non ci siamo sentiti assolutamente difesi e tutti noi avevamo diciamo ognuno di noi un sindacato di riferimento non ci siamo sentiti assolutamente difesi abbiamo capito che gli interessi non coincidevano con quelli dei lavoratori che loro portavano cioè se coincideva la cosa va bene ma se non coincideva ovviamente loro essendo già addirittura diciamo facenti parte dell'ente in maniera diretta poi si sono sganciati e in dubbio cantavano nella direzione degli enti e quindi quando noi abbiamo compreso almeno io ho compreso che non non avrei avuto nessun tipo di voce attraverso loro ho fatto da me e quindi Adriana Vitale si è messa in proprio insieme ai suoi colleghi ma non da sindacalista e mai lo farò questo lo voglio specificare perché è un argomento che non mi interessa completamente io mi sono fatta la battaglia per me stessa per la mia degnità e in dubbio che gli altri hanno fatto la stessa cosa tutti insieme anche se pochi siamo diventati una forza a tal punto da riuscire ad ottenere un'ottima norma nell'ultima finanziaria che intenta utilizzare il Ciape di Priolo sempre come bacino unico quindi come apparato unico per andare a svolgere le nostre funzioni diciamo che questa è stata una grande conquista al momento io non mi sento assolutamente e del tutto soddisfatta dei primi atti che sono stati fatti ma diciamo sono delle delle piccole o grandi cose ma non importa la legge è lì se questo governo riuscirà a farci entrare a lavorare va bene ma la legge è lì evidentemente entriamo al prossimo governo ad andare a recriminare proprio che la legge venga applicata io non so se può farle piacere anche qui a Sottoscacco un paio di politici sono passati lei parla da politico ognuno di noi fa politica cioè non c'è nessuna persona che non fa anche il bambino fa politica perché il bambino fa le scelte diciamo che io ho avuto sempre una passione politica l'ho seguita fin da bambina cioè mi racconta perché io neppure me lo ricordo tranne proprio un piccolo flash che io a 4-5 anni mi sedevo davanti mi sedevo sul marciapiede quando c'era il politico di turno nel balcone che faceva i comizi io mi mettevo così e mi seguivo i comizi diciamo che c'è una passione che non ho mai praticato in maniera diretta come diciamo letteratura ecco l'ho seguita molto la seguivo in televisione preferivo un intrattenimento politico a un film ora però devo dire la verità appena vedo i politici io cambio canale da qualche anno a questa parte perché diciamo non va più bene quindi lei fa parte comunque di quella mezza Palermo come mezza Sicilia come mezza Italia che non va a votare no assolutamente il voto è un diritto chi non vota non è che non fa una scelta fa scegliere agli altri e questo è un fatto assolutamente negativo ognuno di noi deve prendersi la responsabilità di farlo la scelta perché chi non sceglie fa scegliere agli altri com'è la vita personale di Adriana Vitale che può essere anche quella dei suoi colleghi senza appunto con questa lotta che state facendo allora io mi ritengo una di quelle fortunate perché di matrimonio ne sono scoppiati ed è fisiologico cioè io mi ritengo una di quelle fortunate perché sono stata appoggiata dalla mia famiglia dai miei figli dal mio marito che è stato molto comprensivo i miei figli sono privati di una madre per un lungo tempo e quindi da questo punto di vista forse se ce ne fosse bisogno ci siamo ancora più uniti in una situazione di disagio familiare e quindi molta comprensione anche da parte dei ragazzi di non chiedere il più del dovuto e quindi adeguarsi ad una situazione diversa rispetto a quella che avevamo prima che era una situazione normale infatti noi non chiediamo la luna chiediamo solo la nostra normalità solo la normalità e rimpiange mai di aver cominciato questa lotta che verosimilmente adesso è anche una responsabilità forse personale se si sente sulle spalle questo è vero perché molto spesso non molto spesso ogni tanto mi è capitato magari di voler mollare tutto per stanchezza però poi ti senti la responsabilità addosso di molte persone che credono in questa battaglia e che quindi vedono magari in me un punto di riferimento anche loro saranno e sono sicuramente capaci di portare avanti le battaglie oltre me su questo non ci sono dubbi però la scelta di continuare sempre di non mollare mai è stata una scelta proprio di dignità personale perché è giusto difendere la propria dignità perché il lavorone è solo pane anche dignità e questo lo voglio rimarcare su facebook lei ha fondato praticamente tutta la tutta la sua la sua lotta è quella dei suoi colleghi chiaramente vorrei che passasse appunto il il messaggio penso di fare le cose che era dita che non si tratta di Adriana Vitale contro il sistema politico sindacale oppure tutti i problemi da formazione ma è un gruppo di persone non è contro è pro certo certo non è contro ma è pro contro la gestione esatto mi intendevo facebook potrebbe essere considerata però un'arma anche a doppio taglio assolutamente sì perché molte persone pensano di fare attivismo o comunque di protestare da dire una tastiera assolutamente sì ma non solo da questo non solo da questo punto di vista questo è un aspetto diciamo io li chiamo i leoni da tastiera non solo diciamo sicuramente in tanti tra l'altro i social hanno dato voce anche agli impecili su questo non ci sono dubbi cioè non ci sono dubbi diventa anche un terreno facile diciamo di cortile e questo è un altro aspetto negativo diventa anche si può essere spesso fraintesi perché la legge le persone magari non leggono oppure leggono quello che vogliono leggere oppure se tu passi un messaggio magari gradito perché la gente si sente dire quello che vuole sentirsi dire se invece dici che c'è un problema alcuni già diciamo ci restano male intubbiamente le cose si devono dire per come stanno meglio una brutta verità che una bella cosa ma che non porta a nulla però gli aspetti positivi ci sono pure perché diciamo che in questa situazione nostra dove tutti i colleghi tutti i 1500 quelli che siamo siamo distribuiti in tutta la Sicilia è un modo diciamo per comunicare da questo punto di vista va benissimo poi passano messaggi perché diciamo che poi quando una persona è tenuta in conto anche da parte della politica ti seguono e quindi magari tu sei anche furba da far passare determinati messaggi funziona anche così lo ho adoperato anche per questo anche in maniera strategica certo certo braccio di ferro che è capitato parecchie volte mi può citare un caso magari con le con politiche con ente politico vabbè c'è stato l'assessore precedente con il quale diciamo dopo un primo approccio positivo si sono completamente chiusi i rapporti nel senso che ci mancava l'assessore precedente a Bruno Marziano no no l'assessore precedente alla dottoressa Mangano ah ok mi ci che è sì 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 perfetto con cui non diciamo non si è più stabilito quel tipo di dialogo per portare a qualcosa si sono rotti completamente i rapporti perché magari lui poteva anche essere stufo di vederci lì davanti la porta non è bello per un politico ma noi volevamo le risposte cioè noi non eravamo contro di lui come Gianluca Miciche persona quello che rappresentava quello che rappresentava indubbiamente perché la distinzione tra la persona e la politica va sempre fatta e ha idea di far valere le sue ragioni in maniera futuro in maniera politica cioè correndo per io non mi sono allora da questo punto di vista ho avuto tante proposte in passato anche nel mio paese che ho sempre diciamo rifiutato ah quindi è capitato sì prima anche diciamo nel mio nel paese ho avuto addirittura una volta la proposta di una candidatura regionale che ho rifiutato sempre in nome della mia libertà perché io voglio stare devo stare con chi non mi devo vergognare ah ok allora non le chiedo il colore politico di queste proposte no io posso pure dirlo io sono di destra sono sempre stata e sono orgogliosa di essere di destra ma questo non c'entra niente con la politica in tutti i casi ringrazio sempre tutti i deputati che sono stati con noi che hanno avuto l'intelligenza di capire che il problema era sociale e quindi non hanno avuto infidi all'uno dell'altro ma insieme si sono adoperati per risolvere il nostro problema e i politici che ci hanno aiutato sono in tanti di colore politico diverso in maniera molto trasversale a partire da Figuccia dall'onorevole Maggio Tancredi Marcello Greco nella qualità di quinta commissione che fin da primo minuto insieme a Figuccia e Maggio sono stati con noi poi si è aggiunto anche Cordaro l'onorevole Vinciullo Panepinto pure insieme a una serie di non vorrei diciamo fare torta a nessuno però diciamo ci sono stati un gruppo di politici infatti li sto nominando e lei sa benissimo che sono di colore politico diverso verso i quali noi abbiamo molta stima perché ci hanno seguito in maniera molto intelligente le dà fastidio e poi chiudiamo siamo veramente in chiusura vorrei continuare questa chiacchierata però tempi televisivi insomma non ce lo permettono è sempre convinta di questa forma di protesta le dà fastidio quando magari forme di protesta più chiamiamole violente o dure ottengono risultati migliori no io non sono assolutamente mai per la violenza perché la capacità della parola dell'argomentazione è molto più efficace nel modo più assoluto noi non siamo mai stati violenti magari ci possono essere stati quei cinque minuti così di qualcuno che gli scoppiava anche l'embolo ed è ovvio è naturale ed è comprensibile però abbiamo sempre agito con rispetto nei confronti di tutti nei confronti anche del politico che rappresentava in quel momento il tuo peggiori nemico ma da un punto di vista proprio politico e lavorativo non mai personale perché quello è esula cioè io voglio dire anche con il presidente con tutto ciò che agito nei nostri confronti in un certo modo nei confronti della Sicilia e dei siciliani perché c'è sotto gli occhi di tutti ma sulla persona e sull'istituzione il massimo rispetto grazie mille ad Adriana Vitale grazie a lei non abbiamo giocato però abbiamo parlato e quindi insomma non ci abbiamo pensato non ci abbiamo pensato grazie a voi per averci seguito e alla prossima ancora con noi con Sottoscacco lo vedo molto contento grazie a tutti grazie a tutti